Il ragazzo più felice del mondo per me è come se fosse il primo film, non è il primo in realtà, però è come se fosse il primo perché è il primo nel quale sono riuscito a lavorare con lo stesso atteggiamento, la stessa libertà e leggerezza e voglia di gioco che ho quando lavoro ai fumetti. È un film piccolo e questo fatto di essere piccolo, di non avere un peso produttivo sulle spalle, mi ha permesso di inventare tutto quello che volevo senza problemi. È un film fatto con amici, dove il tema dell'amicizia non è solo presente nel racconto, ma io credo che traspaia proprio dalle facce dei protagonisti. È un film al quale io personalmente penso che vorrò sempre bene, perché proprio quella roba lì è proprio una cosa strasincera, fatta con pochissimi soldi, solo per la passione, e poi c'è un fatto che negli ultimi miei anni è diventato fondamentale, cioè mi fa ridere. E io devo dire che se ora venisse Satana e mi chiedesse «Ciao, ciao Gipi, sono Satana e ti do la scelta, vuoi tu commuovere i lettori eccetera eccetera o vuoi farli ridere? Devi scegliere uno alle due». E io sceglierei farli ridere. E quel film tutti mi dicono che fa ridere. Grazie. Grazie.